Torna a distanza di 5 anni la provvedimento di contrasto del comune di Montesilvano al fenomeno della prostituzione stradale su lungomare. Domani in Consiglio Comunale con ottime possibilità di voto favorevole unanime la modifica e regolamento della Polizia Urbana che prevede sanzioni di 450 euro ai clienti che vengono sorpresi da Polizia Locale o Carabinieri a contrattare con le prostitute su via Aldomoro. Il provvedimento sarà in vigore da maggio a settembre. Qual è il fine di questa forma repressiva? Perché è tale questa è quella comunque di disincentivare il cliente. Noi sappiamo benissimo che molte prostitute sono schiavizzate soprattutto per strada e quindi il nostro intento è di ridurre la prostituzione stradale. Noi ridurre perché eliminare è impossibile visto che ci vorrebbe ovviamente una legislazione nazionale che andrebbe a intervenire e quindi ridurre sensibilmente il fenomeno del meretricio stradale colpendo soprattutto i clienti. Questo perché comunque sia il cliente ovviamente paga subito la multa quindi è più al timore che possa accadergli qualcosa di negativo. Quindi questo ovviamente va soprattutto nei confronti del cliente. Per quanto riguarda invece l'ordinanza, molti mi hanno detto che si potrebbe fare anche l'ordinanza sindacale. L'ordinanza sindacale ci è stato detto dalla prefettura che non si può più fare perché non si configura più la contingibilità e l'urgenza. Quindi noi abbiamo volutamente inserito all'interno del regolamento di polizia urbana modificando l'articolo 43, anche inserendo il 43 bis, uno strumento che comunque dà la possibilità ai carabinieri e anche alla polizia locale, apro la parentesi, da maggio a ottobre ci sarà l'estensione del terzo turno affinché si possa intervenire su questo fenomeno.